Quindi, io vado fuori e giro, fuori e giro, adesso bisogna andare solo a destra, niente altro, start, avanti, hop, ok, si, 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 vado a destra e mi pianto, diciamo sono pronta, cerca di non fare altre parti, quindi vado a destra, hop e mi pianto, mi pare, tu devi prendere il comitato, Ok, 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 vedi, tei, non dimentichi di accelerare quella gamba l'hai tirata via e qua vedi io arrivo va bene perché mentre ricordi si deve creare quest'angolo in caso si arriva non si colpisce, non si ferma si sente scusato, scimonoso quindi domani è vero vedi che sei più seguimi in guardia, sempre in guardia stiamo lavorando allora, cosa fare? ti tiene resistenza se io mi allontano è un po' male quindi deve tenere fronte a casa sempre in foco se vedi io lato e poi io ti prendo ho ho ecco, questo è un po' male la mia è un po' male è un po' male è un po' male forse in via ok in via ok in via guarda come si è rimasto il sudore in forma di cuore eh devo dire ma come funziona fuori come energia e si vede proprio forma di cuore va va ok riposa un po adesso dovremmo fare da l'altra parte io mi ero stai nei piaci questo è un certo corte lecce è molto politico poi tu conosci il quale lavoro quindi ricordi dai pronto avrai step, gamba guardia spiegato hop 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 mi giro la testa hop ed è qua ed è cerca di sentire questa distanza più o meno prova ad arrivare e sinistra hop 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 e, piantato hop piantato e, in là hop hop No, no, vai. Opa. 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 Se proviamo a fare magari un colpo quando uscirai, puoi scuterne il colpo, ok? 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 E non è facile eh? Perdi energia. Perchè ritri? Ok? 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 Ok. Ok? Adesso faremo sinistra e destra, faremo in un ritmo più lento, riposa un po', come ti senti, non ti gira la testa, non ti vomito, bevi un po' di acqua e riposa bene, non vieni buio? No, perché quando fai corsa è semplice uno, quando fai più lonti, trilla, con ginocchio, e poi questo è il quarto esercizio, di solito quando fai il quarto, si provoca un effetto di supercompensazione, e poi senti che fai un'attività fisica che prima non è facile, quindi quella che era, tu hai già sceso, adesso se un metabolismo prende un altro segnale per allargare un po', sicuro che senti per me? Sì, perché? Si vede più stanco adesso, ok? Ok, adesso facciamo un step fuori a destra, un step fuori a sinistra, va bene? Ok. Ok. Ora, vediamo qua. Un step fuori lì, un step fuori lì, un step fuori lì. Enicco per di qua? Sì, sì, dove, 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 dove? Hop, hop, va bene, adesso ho, è hop, 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 e guarda sempre dove tu ci sei. Hop, 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 è lì. Grazie. 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 Tu con un braccio. Adesso devi portare fuori. Poi ancora forse fuori. Solo per sviluppare questi riflessi. Va bene? Ok. Abbiamo cominciato a sette, giusto? Sette cosa? Sì, adesso sette e quarantaquattro. Sì. Dai facciamo ancora quindici minuti al minimo. Vediamo come si sente. Ok, adesso devi una volta più sposti di là. Si sposti in contrario devi andare lì. Si sposti in contrario devi andare lì. Sì, va bene. Faccio qui. Non va a fare meglio i mostriologisti per vedere. Ci fai. Sposto paio. Ancora? Vedi? Facciamo. Hop, hop. Sì, si corta. Hop. Hop. Ascensito proprio. Sì. Sì. Hop. 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 Vedi? Come porti braccia, zamba, tutto. Hop. 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 Ho quasi. Ho lavorato. Ho bisogno di da qui. Eh, per non finire tanto da qui. Immagina. No, ok, ok. Vai, 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 vai. Guarda sempre. Non posso, se non ti vede. Oh, oh. 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 Come si trova questa cosa? Vado via, vado via, vado via. Ah, ah. Quando prendi così, allora ti vede. Ah. Come questa parola? Non è... In parola. Ho vinto. Ho vinto. Ok. 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 Ok, ok. 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 Cerco di lavorare con palmo e cerco di non incontrarsi tanto, perché il nostro abitivo quando gli prendono è il meno contatto. Il nostro abitivo è il nostro abitivo, perché il nostro abitivo è il nostro abitivo. Il nostro abitivo è il nostro abitivo. Il nostro abitivo è il nostro abitivo. Grazie. 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 una volta forte e spaventarsi la seconda volta arrivo e tu già stai pensando a questo coso io mostro il gomito il gomito deve venire sotto ok stava destra ehi, ehi pa, pa, pa oh, ehi pa, 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 pa oh, questa è buona, vedi come si chiude anche se arriva una destra gomito qui ehi, guarda, guarda pa, pa, pa pa, pa, pa vai, come come tank, vai su roba ehi, va ok, prendo un secondo guarda ehi, va Grazie. 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 Adică ancora trei mă mulți. Care mai condimensione le movimente. 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 11 12 12